Beh, Donington per me si cura dei ricordi davvero speciali. La prima vittoria in carriera in Superbike con Yamaha nel 2011, prima vittoria della storia di BMW e mia prima vittoria per forza in BMW nel 2012. Un weekend dolce e amaro perché dopo la vittoria in gara 1 ero convinto di potermi giocare la vittoria in gara 2 e così era fino a due curve dalla fine. Ho passato Aslam di nuovo all'ultimo tornantino, sono arrivato molto lungo e dietro di noi c'era Johnny che ha provato comunque ad entrare su Aslam che è stato un po' titubante quando mi ha visto sfilarlo. Johnny ha preso Aslam, Aslam è caduto e a sua volta mi ha buttato giù a me. Quindi è stata veramente una domenica ricca di emozioni. Però è una pista che mi piace tantissimo, regala gare sempre davvero incredibili. Quindi mi aspetto di vedere Toprak perfettamente a suo agio con la BMW in quel tipo di circuito perché è una pista che si adatta molto e credo che possa essere una delle piste più critiche per Ducati invece. Solitamente è sempre stato un po' difficile anche se Bautista quando era in giornata ha dimostrato di poter vincere anche dove non sembrava possibile. Quindi mi aspetto una gara diciamo all'ultimo tornantino magari non come nel 2012.